Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Sono Lorenzo Cotterini e in questo video voglio mostrarvi un altro ritmo cubano. Questo ritmo è Abacua. Abacua è il termo per un tipo speciale di società di sicurezza in Cuba. Questo ritmo è nel 6-8. Ora vediamo il pattern del congas in un tempo slow. I play the congas with click only. This is the congas pattern. Now I play the same pattern in a normal tempo with cobel rhythm. I play the same pattern. This is what I want to show you today. I hope you like it and try it with your congas. If you like this video, share it with your friends, like it, subscribe to my channel and see you here for more videos. Bye! Bye! Bye!